tutto all'incontrario ciao franco il tuo video come ti chiami martina da dove vieni che sarebbe una roba dei prosciutti ha portato quindi il suo regalo ma però gli hai chiesto adesso ci stiamo imparagando un po di corsa perché siamo veramente frettolosi però ti hanno spiegato quello che fai? no? e allora va benissimo meglio così così sai solo che vai in aereo per il resto te lo dice lui mentre siamo su man mano che saliamo ti dice tutto il resto da fare ok? tu guarda davanti ci sono io che ti guardo con le telecamere diverti ridi e benvenuto al campo volo di reggio emilia e ci vediamo dopo in aereo ciao martina ciao ciao zia se martina andiamo posta di copra ci vediamo anche la zia No, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.